Uno degli elementi che possono provocare la caduta di un lavoro teatrale è la tosse degli spettatori. Quando il teatro comincia a tossire, l'impresa trema. Anche più dannosa è la tosse degli spettacoli lirici. Dannosissima poi nel corso dei concerti. Si può asserire senza tema di esagerazione che la tosse durante un concerto è una delle cose più fastidiose che siano state scoperte durante questi ultimi sei anni. Ci sono momenti in cui la sala di concerto sembra trasformata in un sanatorio e i colpi di tosse si propagano attraverso le poltrone, i palchi. Non so quale medico ha spiegato che la tosse è in rapporto con la commozione e questo ci direbbe perché i colpi di tosse scoppiano con maggiore frequenza durante i pianissimo pieni di malinconia. Chissà se la teoria del medico è vera. Egli sentiene che la commozione fa ingrossare non so quali glandole della gola e che queste ingrossandosi provocano la tosse. Per conto mio sostengo che la tosse è anche in rapporto con l'inverno. Ho osservato infatti che questa stagione coincide stranamente con quella dei concerti. Appena spuntano i concerti comincia l'inverno. Appena cessano i concerti l'inverno comincia. Dunque la musica ha qualche rapporto con le condizioni meteorologiche? Forse che sì, forse che no. Comunque è probabile che se la stagione dei concerti coincidesse con l'estate la commozione non farebbe tanto ingrossare le glandole della tosse. La quale tosse dà fastidio a quelli che sentono tossire ma molto di più a quelli stessi che tossiscono i quali sanno di dare fastidio agli altri. E se durante concerto più si sforzano di reprimere le esplosioni della noiosa infermità più sono afflitti dal bisogno di tossire. Si trattengono in attesa ad un fortissimo. Se questo tarda scoppiano in un colossale colpo di tosse. Sono poi i timidi che rabbrividiscono all'idea di tossire. E questo pensiero dà loro prurito alla gola che li porta a scoppiare in giganteschi colpi di tosse durante i pianissimi. Fra lì il dolce rimprovero dei circostanti. Vanno poi quelli che sentono il bisogno di tossire perché hanno dimenticato di comprarle caramelle. E alla fine è un nervo di persone le quali tossiscono perché sentono tossire. Questo si risolve in un gran fastidio generale, in un danno per l'arte, in una situazione che non deve durare. Ma direte, come si fa a impedire alla gente di tossire? Non è questo signori che si pretende. Io modestamente avrei una proposta che non soltanto eliminerebbe gli inconvenienti derivanti dal rumore della tosse durante le esecuzioni musicali, ma sfrutterebbe questa infermità a vantaggio dell'arte senza aggravare il bilancio delle stagioni liriche. Si tratterebbe in poche parole di questo. Trasformare la tosse in uno strumento musicale. Mi spiego. Basterebbe che i musicisti segnassero nelle partiture, insieme con le parti dei violini, violoncelli, eccetera, anche la parte della tosse. Ogni tanto con un colpo di gran cassa, un colpo di tosse. Questo strumento verrebbe suonato, per così dire, dagli ascoltatori, i quali non avrebbero bisogno di frequentare il conservatorio, basterebbe che si trattenessero un poco se essero attenti al segnale del direttore d'orchestra. E quando questi con la bacchetta accennano alla platea, ai palchi, giù, con te, che nel bisogno fanno un colpo di tosse o due o tre, a seconda delle indicazioni dello spartito, trasmesse dal direttore. Naturalmente dai movimenti della bacchetta il pubblico capirebbe se deve fare un colpo secco, oppure una serie di colpettini di tosse rapidi e discreti. Ci sarebbe il crescendo, il pianissimo e così via. Se la cosa pigliasse piede, visto che questi orchestrali non costano nulla alle imprese, si potrebbe disciplinare sotto la bacchetta direttoriale anche la falange di quelli che si soffiano il naso durante il concerto. Ci pensino i musicisti e trovino il modo di iscrivere fra le parti degli strumenti a tempo per accrescere l'effetto dei loro pezzi, parti per tosse, per starnuto e per soffiamento di naso. Grazie.